Mi chiamo Nofrio Pepe, sono partito da Altamura con l'incarico di raccontare questa grande impresa, ma soprattutto per accompagnare e far conoscere la focaccia. Io mi chiamo Dante Cappiello, crasse 58. Sul McDonald's non ci sono mai entrato dentro perché ad Altamura ci sta la focaccia buona. Troppo facile. Io nel McDonald's, la verità, non sono andato mai. Ci sono tanti forni che fanno il pane a legna. Abbiamo già tutto quello che ci serve per vivere meglio. Basta sceglierlo. Se vai al teatro, scegli la focaccia. Se bevi il vino, scegli la focaccia. Focaccia Blue. Focaccia Blue. Focaccia Blue. Gaggia. 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 Giust Information. Chi. Gaggia. Gaggia. Grazie. Servo. Gaggia. Gaggia. Viaggia. Grazie a tutti. Grazie.